E dobbiamo dire che, guarda, sta superata un po' in grande ente della seconda tridice. Spazio stretto e più spazio di sé, e anche questa maurità, la fine stretta, quante rassicuranti dichiarazioni di civile si ricompone in serenità e riferimento del suo filare. Ma, la matita è in seguenza, attenzione. Le istitualizzate si prende per contemplare in cui questa fonte non era rilassata. Quel farone ha tirato fuori. Zitto, non l'ho finito. Zitto. Grazie. Continuate a aiutarmi. Non bisogna davvero. Ve lo sapete. C'è Francesca. E Giorgio. Ho fatto un missionenzo e lo faccio di Ramba a tutti. Ecco le magie. Babbo! C'è Babbo, addoltre. Ho parlato con il Franchis. Lo posso sentire, è Babbo? Tesoro ma… Ho tanta voglia, mi manca tanto da morire, mi mancate tutte e due, lo so che siete vicini, fatemi sentire ancora.